Richieft Live 22 è l'ennesima dimostrazione che ti porti a casa sicuramente qualcosa di importante. È tutto organizzato al meglio, ma su questo non c'erano dubbi. Vedo tanta partecipazione da parte di tante persone, anche nuove rispetto a quelli che magari sono già qui da tempo e questo significa che la strada che si percorre è quella giusta. Prima che conoscessi Richieft la situazione era quella classica dell'istruttore che a un certo punto pensa di poter fare la strada da solo e apre una palestra con tutti gli errori possibili. Io li ho fatti tutti. Quando Paolo o Emanuele o Massimiliano raccontano le varie storie io a volte mi chiedo, ma li conoscono? Sono stati nella mia palestra? Perché gli errori li ho fatti tutti. Piano piano ho capito, seguendo le strategie, le procedure e tutto quanto, che c'era anche un'alternativa e mettendo in atto queste procedure i risultati sono visibili, ma veramente visibili. La prima cosa che porterò già da lunedì allo staff è quella di concentrarsi ancora di più sulle relazioni, sulle consulenze tecniche, sulle verifiche e poi tutto questo sul controllo dei vari indici di performance per vedere se tutte le azioni che stiamo facendo hanno i risultati e quelli che appunto vogliono essere i nostri risultati. E quindi già da lunedì si ripartirà ancora una volta riguardando tutte quelle cose che ci sembrava di conoscere abbastanza bene, ma quando vieni qui vengono rimesse in discussione un'altra volta e però aiutano a crescere ancora di più tutti noi.